ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco unif tush a cosa serve unif tush a un parafarmaco appartenente alla categoria degli preparazioni al trucco viso è commercializzato in italia dall'azienda l'oreal italia spa direzione generale informazioni commerciali titolare l'oreal italia spa direzione generale concessionario l'oreal italia spa direzione generale categoria di appartenenza preparazione al trucco viso confezioni unif tush correttore del colore pro 11 9g indicazioni multicorrettore delle imperfezioni cutanee leggere o severe per una copertura immediata e totale delle imperfezioni cutanee del colore temporanee brufoletti occhiaie o rossori diffusi o definitive cicatrici capillari dilatati segni di acne punto cooperose o pigmentazione disomogenea a necessario pia di un normale correttore descrizione e caratteristiche a euro s l a roche posai ha creato unifiance correttore tu che pro euros a euros tecnologia film sottile euros a euro s che permette di ottenere la massima copertura senza dover rinunciare al comfort e ai risultati cosmetici modulabile questo correttore si adatta tutte le esigenze di correzione dalle pia leggere occhiaie rossori alle pia gravi angiomi vitiligine per una copertura ottimale e localizzata senza eccedenze applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sull'imperfezione picchiettando delicatamente per una copertura pia leggera e uniforme stendere il prodotto su tutto il viso uno a strumento a professionale accessibile a tutti questa nuova formula assicura una copertura senza precedenti per un effetto a seconda pelle a molto confortevole e una tenuta perfetta per 16 ore l'innovazione la tecnologia film sottile una crema con una elevata concentrazione di pigmenti che permette un'applicazione rapida del prodotto in un solo gesto texture facile da stendere per una distribuzione omogenea e sottile per una copertura ottimale e modulabile i risultati il colore della pelle viene istantaneamente uniformato e opacizzato per 16 ore le imperfezioni cutanee del colore scompaiono e la pelle risulta perfettamente omogenea testato su pelle a tendenza atopica e acneica senza profumo non come doceno elevata tollerabilità a euro s componenti e ingredienti di meticone isononil isononanoate bis di gliceril poliacilate 2 iso decine o pentanoate cera microcristallina nylon 12 polibutene silica di metilsililate di sodium steroil glutamate alluminium idroxide barra make contain c778 91 tanium di oxide c77499 c77492 c774 91 iron oxides code fill b7635 1 fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato